Storie di donne, donne del popolo che vivono gli anni 40 in un borgo toscano. È la storia di Lina, Melita, Corrada, Sofie e Marianna, protagoniste di Lacrime Asciutte, il volume scritto da Gianni Manghetti, qua edito da Prima Medi Editore e Cantagalli. Le radici di queste donne sono radici di sofferenza, di dolore, di grande dignità. Alla base delle conquiste delle donne di oggi si sta anche tutto il fondamento di quella vita, di queste donne del passato che devono continuare a rivivere perché non si torni più a passare quel che hanno passato loro. Sono gli esempi che devono rimanere dentro le persone e che le devono, nelle circostanze concrete della vita, devono tenere presente quel che hanno passato gli altri e quindi avere la forza da quel che hanno passato gli altri per superare le difficoltà dell'oggi. Tra le pagine del libro rivivono speranze, sofferenze, illusioni di donne abituate a piangere dentro, lacrime asciutte appunto, ed emergono spaccati di vita di grande intensità emotiva che appartengono ad un mondo che sembra distante un'eternità dai nostri giorni. Il microcosmo locale si fonde con il macrocosmo nazionale. Alle vicende dei personaggi si intrecciano sullo sfondo grandi avvenimenti che hanno scandito la storia italiana come il referendum del giugno 1946, il primo a soffragio universale, che sancì il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Dopo la presentazione a Roma l'11 dicembre scorso, il libro è stato presentato in Toscana lo scorso 6 febbraio a Pomarance, il paese natale di Manghietti. E chiunque legge questo libro sente profondamente le radici e credo anche l'orgoglio di essere nato e di aver vissuto un territorio che oggi per noi è così importante. È chiaro che il libro riassume una serie di valori fondamentali. Non solo per stavolta, nella sua ultima opera, quindi l'ultima dico cronologicamente, ho trovato una qualità diversa, ma anche ho provato una sensazione diversa. Si parla di Pomarance, si parla della storia, si parla di ciò che tutti dovrebbero conoscere e questa volta il Presidente l'ha fatto scrivendo, diciamo, con uno stile, con una passione, con una volontà che fa immedesimare il lettore in quella vita. Quindi ci dà un insegnamento profondo perché non solo ce la racconta, ma ce la fa rivivere. Le donne descritte dal dottor Manghetti hanno dimostrato una dignità anche nel vivere il dolore e una forza d'animo sorprendenti. Costituiscono senz'altro la nostra storia, la storia delle donne di oggi, fanno parte integrante della nostra storia e quindi senz'altro il messaggio della forza, della grande forza, pur nelle avversità della vita più atroci, ci possono senz'altro insegnare a vivere cercando di riuscire a capire quelle che sono davvero le cose importanti per le quali vale la pena di soffrire, di star male, e quali invece si possono superare senza troppi problemi. A far da cornice alla presentazione è una mostra fotografica che attraverso scatti in bianco e nero ritrae pomarance dalla fine del 1800 al 1950.